eccoci tornati con un nuovo appuntamento di cronache e commenti la regione toscana il parlamento toscano visto dalle nostre telecamere e tempo di variazione di bilancio è stato infatti questo il tema principale dibattuto durante l'ultimo consiglio regionale parleremo in principal modo eh di questo una variazione che eh immette più soldi ovviamente nel sistema toscano ma che ha visto un dibattito acceso fra maggioranza e opposizione scopriremo anzi e sentiremo i commenti dei consiglieri ma parleremo anche di altro e come sempre vogliamo iniziare dai titoli principali per andare a capire quali sono i temi che toccheremo in questa puntata approvata con 26 voti favorevoli la terza variazione del bilancio di previsione 24 26 il consiglio regionale ha ricordato alberto monaci che è stato presidente del parlamento toscano dal 2010 al 2015 approvata con 26 voti favorevoli di pd e italia viva e 11 contrari di lega fratelli d'italia forza italia 5 stelle gruppo misto la terza variazione al bilancio di previsione 24 26 la variazione vale 72 milioni di euro 70 di questi dedicati alla sanità 40 milioni derivanti dall'adeguamento delle stime per l'anno 2024 del gettito tributario derivante dalla manovra fiscale sull'addizionale irpef 14 milioni 800 mila euro per il 2024 e 20 milioni e 700 mila per il 2025 relativi invece a risorse libere regionali che vengono recuperate mediante la riduzione della quota regionale di cofinanziamento al fers 21 27 15 milioni destinati invece al finanziamento aggiuntivo della spesa sanitaria corrente 2024 tramite l'utilizzo delle risorse accantonate sui fondi di riserva non sarà invece abbassata l'irpef ai livelli di fine 2023 nel 2025 la maggioranza infatti ha bocciato un ordine del giorno presentato dal consigliere marco stella di forza italia da un punto di vista politico una grande soddisfazione perché pochi atti fra quelli delicati che siamo chiamati ad approvare vengono votati da 25 consiglieri regionali nemmeno uno è venuto meno a quello che è stato un lavoro che ci porta con la variazione di bilancio che è la terza dell'anno 2024 aggiungere più di 70 milioni in più di quello che sono le voci dei capitoli dell'attività ordinaria del consiglio regionale verso la sanità con questa variazione di bilancio arriviamo nell'anno 2024 a dare da parte del bilancio regionale 330 milioni che si aggiungono nel sistema sanitario regionale a quanto attraverso la suddivisione in 20 regioni del fondo sanitario nazionale si dà alla sanità siamo la regione record quella che politicamente fa una scelta di tutela e valorizzazione della sanità pubblica e mette più risorse naturalmente privandole alle altre attività ordinarie del consiglio ma per noi la salute dei cittadini è il primo obiettivo che ci poniamo con questi 330 milioni noi consentiamo al sistema sanitario regionale di essere primo nella scelta di un ospedale che agenas l'agenzia del ministero fa l'ospedale di careggi come il migliore d'italia consentiamo a quattro ospedali di essere fra i primi venti consentiamo di offrire tutta quella serie di servizi che ci porta ad essere nei lea i livelli essenziali d'assistenza fra le prime tre regioni rispetto alle venti regioni così come certificato da agenas l'agenzia del ministero insomma avere risultati davvero di cui i cittadini toscani possono essere orgogliosi e consapevoli che in toscana la salute dei cittadini e la sanità è il primo degli obiettivi l'irpef sencato se ne ragiona con il bilancio che verrà fatto il mese prossimo nella variazione è solo una modifica dell'allocazione di risorse di bilancio e in particolar modo una variazione importante perché trova le risorse mancanti per coprire completamente la spesa sanitaria dello scorso anno e quindi così noi abbiamo il sistema sanitario che trova una completa copertura delle proprie spese nuovamente è la regione toscana con il proprio bilancio che si fa carico della copertura di una spesa quella sanitaria che invece dovrebbe trovare completa copertura nei fondi statali che continuano a non mancare 330 milioni alla fine con quest'ultima variazione diventano i soldi che la regione e che i toscani mettono per finanziare una spesa che dovrebbe essere completamente finanziata dal dallo stato con il fondo sanitario nazionale una variazione necessaria che mette in sicurezza finanziare al bilancio della regione toscana italia viva sostiene queste politiche soprattutto a vantaggio del welfare del sociale della sanità è una tenuta dei nostri servizi che diventa un'eccellenza a vantaggio delle persone è evidente che sta migliorando il livello dell'erogazione dei servizi che ci trova a condividere un'impostazione che deve soprattutto privilegiare il sistema sanitario pubblico e universale nella nostra regione. Questa variazione di bilancio di fatto cerca di colmare il buco della sanità 330 milioni nel 2024 destinati dal bilancio ordinario alla sanità perché Gianni non riesce a controllare la spesa. Per quanto riguarda poi le altre voci ci preoccupa molto il fatto che si stornino dalla contabilità ordinaria del dissesto idrogeologico quindi dove si fanno interventi e progetti di prevenzione alla contabilità speciale di Gianni commissario di governo per gli interventi in emergenza perché questo significa non fare appunto prevenzione ma intervenire soltanto a posteriori. Noi viviamo uno squilibrio strutturale ormai sui conti della sanità e quindi di fatto quella che è la promessa all'impegno di una riduzione dell'IRPEF è stata totalmente disattesa ma quello che temiamo è che sarà disattesa ancora per diversi anni. Questo perché di fatto questa regione in questi ultimi quattro anni con questa gestione sostanzialmente non è stata capace di arrivare a comprendere dove è la falla del sistema sanitario. La legge 40 prevede espressamente che si debba effettuare un monitoraggio e un controllo costante sugli indicatori di risultato delle aziende sanitarie. Il che vuol dire che i direttori sanitari non possono e non debbono avere una capacità di spesa che è illimitata e non soggetta a forme di controllo e monitoraggio. Ecco tutto questo è sfuggito. Di fatto noi abbiamo centri di costo che in tempo reale spendono diciamo per le cure dei toscani quindi durante la normale attività sanitaria. Quello che però non viene diciamo considerato e non viene monitorato abbastanza è come si possa in qualche modo far sì che il contenimento delle spese sui farmaci sui dispositivi diventi una costante perché non si può pensare sempre e solo ad accusare il governo centrale delle poche risorse quando di fatto noi non sappiamo come queste risorse vengono spese. Questo è il tema vero. La terza variazione di bilancio riguarda solo ed esclusivamente un importo che viene messo ancora di più nella sanità. Si parla di 70 milioni dei quali 40 vengono appunto dall'addizionale IRPEF che è stata inserita l'anno scorso per coprire il buco di bilancio sempre della sanità. Questo vuol dire che non sono bastati i 200 milioni perché se è vero che l'addizionale IRPEF ne ha portati 240 e 40 potevano servire a qualsiasi altra cosa invece la giunta e il presidente insieme ad altre ad altre voci è andato a mettere insieme una cifra di 70 milioni per metterla nella sanità. Questo vuol dire che il deficit ormai è strutturato, il deficit ha bisogno sempre comunque di risorse esterne e questo ci fa capire quello che ormai stiamo portando avanti da diversi anni che quella riforma del 2015 si è dimostrata e si sta ancora oggi dimostrando un fallimento. È un giudizio stantio nel senso non c'è niente di nuovo se non delle cose dette in maniera pretestuosa a partire dall'incipit con cui ha esordito il presidente Gianni cioè che ai tempi del ministro Speranza era il 7% del PIL investito in sanità cosa che il PIL ovviamente consta di due fattori la spesa e appunto il PIL stesso e quindi essendo in fase di covid un PIL depresso ecco che era aumentato la percentuale di spesa sanitaria investita. Per quanto riguarda invece i 70 milioni che attengono a questi diciamo liberi da poter reinserire mi fa pensare che siccome 40 derivano dal maggior introito per l'addizionale IRPEF questi non vengono reinseriti affinché non si abbia una nuova addizionale IRPEF per quel quest'anno ma probabilmente quella che doveva essere una tantum diventa invece una una tassa costante. Dopo aver aumentato 250 milioni di tasse perché la liquida IRPEF più alta che c'è in Italia il presidente Gianni aveva promesso che avrebbe tolto perché serviva una tantum dovremmo dare il premio Pinocchio al presidente Gianni quindi lo proponiamo come candidato al premio Pinocchio perché quelle tasse rimangono abbiamo portato un atto proprio per smascherare il grande belef gli abbiamo detto abbassate avete detto erano una tanto ma avete detto che servivano per coprire i buchi del bilancio soltanto per una volta perché il payback non vi era stato dato e allora nel 25 chiediamo di diminuirle ci è stato bocciato ci hanno bocciato la nostra proposta era quella di riportare le aliquote come il bilancio previsionale del 2023 cioè all'1,78 per l'aliquota da 28 a 50 mila euro e all'1,90 per l'aliquota sopra 50 mila oggi lo ricordo è il 3,33 per cento l'aliquota più alta che c'è in italia ma il tema vero è che nessuno sa dove vanno queste risorse il tema vero è che questi 250 milioni di euro nessuno sa a cosa sono serviti la sanità continua ancora oggi a non funzionare in toscana non si fa prevenzione ci sono delle intere zone della toscana dove non vengono rispettati i livelli minimi delle prestazioni entro i tempi stabiliti io sono andato a vedere una mammografia nell'area del casentino nell'area nord della toscana si va oltre i 120 giorni previsti ecco quei 250 milioni a cosa servono rimane questo grande interrogativo noi abbiamo sempre avuto la sensazione che servono esclusivamente per coprire i buchi di un bilancio che è diventato strutturale il buco di bilancio della sanità toscana e un sistema sanitario che non funziona il consiglio regionale ha ricordato durante l'ultima seduta la figura di alberto monaci presidente del consiglio regionale dal 2010 al 2015 è scomparso lo scorso 14 novembre monaci è stato esponente della dc fino al 94 poi confluito nel ppi prima nella margherita poi e infine nel pd è stato anche parlamentare e consigliere regionale dal 2000 al 2010 ho voluto ricordare il presidente monaci perché c'è un filo che lega chi di noi ha la possibilità di rappresentare tutte le toscane e tutti i toscani io ho avuto modo di incrociare il presidente monaci quando stava terminando la sua esperienza nelle istituzioni iniziava la mia da lui porto con me l'idea di una politica sobria di una politica sempre attenta alle persone ha svolto ruoli importanti è stato parlamentare ma è sempre stato vicino alla sua amata siena in tutte le questioni che riguardavano quel territorio chi di noi ha la possibilità e lui me lo ha detto il giorno in cui sono stato eletto presidente dell'assemblea legislativa mi ha detto resta con i piedi per terra non ti allontanare dal territorio che ti ha eletto cerca di rappresentare tutte le toscane ma parti sempre dalle istanze che conosci che conosci meglio una politica vicina alle persone un grande mediatore ogni volta che ho dovuto io in quel caso ero il responsabile organizzazione del partito e lui presidente dell'assemblea legislativa confrontarmi con lui era in grado di tenere tirato quel filo della trattativa fino all'ultimo istante la politica fatta di ascolto di confronto e poi una soluzione sempre nell'interesse delle cittadine dei cittadini credo che alberto monici abbia soprattutto avuto come ho detto oggi nella sala del consiglio regionale una doppia visione una visione che riguardava il cittadino il quotidiano i suoi servizi e quindi cercava di dare con la mediazione e con la sintesi politica che ci ha insegnato risposte certe e veloci e ai bisogni della gente perché questo dicevano ci chiedono però nel contempo la doppia visione era quella che aveva anche un'attenzione particolare per la prospettiva futura una strategia sia politica e anche della vita quotidiana delle persone proprio perché il mondo va avanti lui lo percepiva e cercava di indirizzarla verso le nuove le innovazioni i nuovi mondi nuovi bisogni alberto era era la politica alberto un uomo della prima repubblica ma che ha saputo attraversare anche gli anni difficili diciamo della seconda repubblica ci ha insegnato tanto a strada tanta parte fondamentale diciamo di come affrontare la politica in generale ci ha insegnato l'importanza diciamo della mediazione l'importanza del confronto in politica ci lascia un grande insegnamento che ci porteremo sempre sempre dietro è tutto da cronaca e commenti appuntamento fra una settimana esatta per la prima seduta del consiglio regionale di dicembre ovviamente la penultima dell'anno ma come sempre andiamo con ordine dunque ci rivediamo fra sette giorni per raccontarvi quello che succederà durante il Parlamento Toscano. Arrivederci.